Campionato equilibrato, lo sapevamo dall'inizio, sono tante squadre forti, ogni partita non ha mai risultato scontato, quindi è una cosa su cui non determina noi, noi abbiamo voglia di dare continuità, di provare a fare bene nel lungo termine, sapendo che per fare bene alla distanza dobbiamo essere bravi a raccogliere, a fare passo dopo passo e andare avanti, senza provare a interrompere la nostra camminata, che a tratti purtroppo abbiamo interrotto, sapendo che non è facile dare continuità, ma è quello che vogliamo riuscire ad ottenere. Adesso credo sia anche relativo guardare la classifica, perché ci sono tante partite in pochi giorni, ci sono state e ci saranno, quindi la classifica verrà, è relativo guardarla adesso e noi non la vogliamo vedere, ma vogliamo continuare a camminare, provando a correre ogni tanto, per poi camminare senza mai fermarci, ovviamente sappiamo che è quasi un'utopia, però l'obiettivo nostro è quello di dare continuità a quello che di buono stiamo riuscendo a fare in casa, sotto il punto di vista delle prestazioni e dei risultati, e che di buono a tratti abbiamo fatto anche fuori casa, sotto il punto di vista delle prestazioni e non sotto quello dei risultati. Credo che non abbiamo mai commesso questo errore, sarebbe un peccato commetterlo in qualsiasi partita, a maggior ragione contro una squadra che viene da due risultati roboanti, quindi sicuramente ci fa stare con le antenne dritte, come ci farebbero stare qualsiasi altro tipo di avversario. Sappiamo che sarà una partita difficile, come l'abbiamo sempre detto e come credo che lo diremo sempre, e lo testimonia il fatto di quello che abbiamo detto all'inizio, di un campionato che è cortissimo, che non ha senso guardare la classifica ancora per un bel po' di tempo, però ha senso tenere dentro di noi la sensazione di voler provare a scalare e a fare qualche passetto in avanti. I moduli, non mi piace tanto parlarne di moduli, perché ci credo veramente che non è la cosa determinante, il campo lo determinano le sensazioni con cui va in campo, la voglia che metti nel fare la partita, pareggiare l'intensità e la voglia di vincere i duelli degli avversari, e a quel punto vengono fuori le qualità dei giocatori. Più siamo bravi a mettere i ragazzi nelle loro posizioni migliori, è ovviamente meglio riusciremo a fare. Di volta in volta, in base a quelli che penso possono essere gli interpreti giusti per la partita da affrontare, abbiamo usato vari tipi di tipologie di gioco, ma lo ripeto ancora una volta, per me non è determinante l'uno o l'altra, è importante che i giocatori facciano il massimo quando vengono chiamati in causa. A Gavri è molto piaciuto questo? Beh, sicuramente so anch'io che Cristian è un ragazzo che ha grandi qualità e che è bravo a metterlo in quella posizione di campo, dove credo che fino adesso ha sempre giocato. Abbiamo ancora, partiamo un po' prima, quindi questa conferenza viene un po' prima del solito, abbiamo ancora un allenamento da fare, ne abbiamo appena terminato uno, ancora qualcuno ha fatto qualcosa di diverso, ci siamo divisi in gruppi sia ieri che oggi, oggi siamo un po' riuniti, però tutti quanti stanno rientrando e non ci dovrebbero essere grandi problemi se non recuperare le fatiche di chi ha giocato e reinserirsi nel nostro gruppo di chi è stato lontano senza giocare tanti minuti. Oggi è rimasto a parte anche Cristian Galano per un piccolo attacco influenzale, qualche ragazzo sta riprendendo da qualche fastidio tipo Busellato, tipo Bascia e Nazionale e domani proveremo a riunirci tutti quanti e a vedere quali saranno i giocatori che potranno disputare la partita perché avranno la benzina per poterlo fare. Abbiamo tanti giocatori bravi, quindi non mi piace fare le gerarchie, le gerarchie sono sempre quelle che è detta il campo e le scelte che mi assumo la responsabilità di fare. Abbiamo giocatori forti, l'ho dimostrato Nenè Domenica che è entrato 5 minuti a fine partita e credo che è stato determinante. Brienza è entrato a 3 minuti dalla fine e è stato altrettanto determinante perché con una giocata ci ha permesso quasi di chiudere la partita, è stato bravo a tenere palla. Come ho detto tante volte, questa per noi deve essere una risorsa, ne abbiamo tanti, sono bravi e mi auguro di averli spesso tutti a disposizione perché ovviamente per noi è importante avere chi scende in campo ma avere soprattutto chi può entrare e risolvere le partite con le qualità che ha.